Esatto, ritornano così in metà le classifiche sempre dopo, però... Come mai la scelta di Caruso? La scelta di Caruso? Che è un bar che piace tantissimo. A parer mio è il brano più bello che abbia mai scritto appunto Lucio Dalla e soprattutto perché parla di un grande tenore, forse il più grande tenore di tutti i tempi. E poi dalla tua voce penso sia ancora più bello cantare questo brano, perché cantare questo brano è una cosa emozionante e poi con la tua voce sicuramente ci farai venire ancora di più i vividi. Allora lo ascoltiamo subito, Marco Graziolli con Caruso. Buon ascolto. Prego. Grazie. Qui dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al colpo di suddietto. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schierisce la voce e ricomincia il caso. di un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto la voce di un uomo abbraccia una ragazza. dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare per l'improvviso più malacchi e ricredete di affogare. di un uomo abbraccia una ragazza di un uomo abbraccia una ragazza. di un uomo abbraccia una ragazza di un uomo abbraccia una ragazza. di un uomo abbraccia una ragazza di un uomo abbraccia una ragazza. di un uomo abbraccia una ragazza 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 di un uomo ab